carissimi amici amiche bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi che ci sta facendo fare in questo momento un bel viaggetto in paradiso puntata che comincia per chi segue la diretta con un pochino di ritardo però forse va bene il il proverbio meglio tardi che mai ci siamo introdotti in questa in questo argomento e la volta scorsa abbiamo visto un po il catechismo della chiesa cattolica quindi le sue affermazioni molto molto belle e molto chiare accennando a qualcosa citato anche nel catechismo della sezione diciamo magisteriale in senso stretto quindi affermazioni dogmaticamente vincolanti di papi e concili che adesso in questa puntata cominceremo ad approfondire evidentemente con l'ausilio dello strumento necessario per questo che che il densinger e direi di cominciare un po subito a vedere qualche testo i concili ecumenici abbiamo già accennato la volta scorsa che ci interessano sono quelli di lione e di firenze ma lo sappiamo due lettere una lettera una bolla di papa giovanni ventiduesimo una costituzione molto importante da benedictus deus che abbiamo già incontrato di benedetto dodicesimo e poi c'è anche magari un intervento da accennare appena relativamente ma comincia a essere un pochino datato ecco ma è un documento della comunicazione della nottina della fede su alcune questioni riguardanti l'escatologia perché come possiamo immaginare in epoca recente addirittura qualcuno ha negato l'esistenza dell'anima come 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 sostanza sopravvivente diciamo così alla morte corporale quindi sono state ribadite alcune cose che sembrerebbero ovvie ma fanno capire quindi il contesto ahimè storico culturale anche teologico in cui ci ci stiamo purtroppo in questo momento dibattendo allora cominciando dal concilio di lion e di lion meglio non lo italianizziamo troppo perché in francese lion siamo nell'anno 1254 è il famoso concilio a cui avrebbero dovuto partecipare sant'ommaso e san bonaventura sono morti tutti e due mentre si regavano per parteciparvi e troviamo due affermazioni molto chiare lapidarie sui temi che ci interessano e che sono se qualcuno poi senza la penitenza muore in peccato mortale costrui senza alcun dubbio sarà attormentato per sempre nelle fiamme dalle fiamme della genna eterna e poi le anime poi dei fanciulli piccoli dopo l'avagolo del battesimo e quelle anche degli adulti che sono morti nella carità nei quali non sono trattenute né dal peccato né al fine di una qualche soddisfazione a motivo di esso volano direttamente alla patria eterna questi testi li abbiamo già incontrati nella catechesi precedenti li rivediamo adesso rapidamente senza la penitenza qui chiaramente non è semplicemente la penitenza virtù quindi le penitenze che si fanno in seguito del peccato perché il peccato mortale ha bisogno della penitenza sacramentale cioè anzitutto del pentimento dei peccati e poi della loro umile confessione si notino ecco le asserzioni nette apodittiche necessarie quando si parla di dogmi perché quando si parla di principi occorre essere chiari una persona deve sapere che se se non si pente dei propri peccati e muore in peccato mortale senza alcun dubbio sarà attormentato per sempre dalle fiamme della gene eterna senza alcun dubbio forse chi lo sa no no senza alcun dubbio certo il peccato mortale che una persona possa essere imputata di peccato mortale il giudizio ultimo di questo spetta soltanto a dio perché la piena avvertenza del deliberato consenso ad un'azione noi possiamo da fuori intuirle presumerle ma che ci siano in maniera piena integrale senza nessuna circostanza scusante lo può sapere con certezza soltanto l'altissimo quindi per carità questo rimane che non toglie però che chi muore in stato di peccato mortale senza pentimento senza dubbio sarà attormentato per sempre dalle fiamme della pena eterna della gene eterna e che in paradiso ci vanno a dispetto di tante cose che si vedono e si sentono solo le anime dei bambini battezzati ovviamente prima dell'uso della ragione oppure gli adulti morti nella carità la carità si intende l'amore di dio quindi che non sono né trattenute dal peccato e né devono ancora soddisfare in qualcosa la divina giustizia a motivo di esso anche qui gli attestati diciamo così di canonizzazione come ho avuto già un modo di dire che si sentono fare ahimè in più di qualche seguia lasciano molto il tempo che trovano e a mio avviso lasciano disorientate le coscienze causano un danno ai defunti causano anche un danno a chi le sente certe cose perché si va poi a fare l'errata idea che più o meno vanno tutti in paradiso qualunque cosa abbiano fatto io dico parlo da parroco specialmente oggi cioè io non lo so se sono l'unico a constatare certe cose cioè la stragrande maggioranza dei centri funerali che si celebra oggi riguarda persone spesso e volentieri sconosciute cioè forse se t'hanno aperto la porta di casa quando si andava a benedire la casa forse magari una volta l'hai vista o due o tre ma dopo di che la gente muore senza sacramenti senza confessione senza viatico senza aver messo piede in chiesa da tempo indeterminato almeno non nella chiesa di cui il parroco è parroco poi sarà andata da qualche altra parte chi lo sa a volte anche in situazioni molto molto turbolente diciamo così e sta in paradiso io non non ho mai fatto e non farò mai affermazione di questo genere preghiamo per la sua anima la fidiamo alla dinamica e ricordia ma io non ho mai detto che sta in paradiso ne ho lasciato intendere presenti che stesse in paradiso quello che cerco di lasciare intendere speriamo che si è salvato e che sta purgatorio come credo che sia giusto fare è doveroso anche fare ora la lettera di giovanni ventiduesimo agli armeni dice che la chiesa romana insegna che le anime di coloro che dopo aver ricevuto il sacramento del battesimo non sono cadute assolutamente in alcuna macchia di peccato o anche quelle che dopo aver contratto una macchia di peccato si sono purificate sia mentre erano nei corpi sia dopo essere uscite da essi sono subito accolte in cielo attenzione a dice le anime che hanno ricevuto il sacramento del battesimo e non sono cadute assolutamente in alcuna macchia di peccato questa espressione mi fa pensare per chi le conosce alla prima apparizione della madonna a fatima apparizione riconosciuta dalla chiesa per cui se ne può parlare presupponendo nell'attendibilità senza dubbio chi legge la prima apparizione proprio del 13 maggio del 17 vedrà il dialogo tra suor lucia e quella che sarebbe diventata suor lucia tra lucia e la madonna comincia a chiedere ma in cielo io ci vado già ci va ci va ci va questa mia amica dice e francesco si ci va ma deve recitare molti rosari perché la madonna dice questo che significa questa frase a un bambino di 7 8 anni adesso non mi ricordo se erano 7 8 ma uno dei due del 1917 quindi in un contesto quale quello portoghese poi tra l'altro proprio impregnato di fede vuol dire che quel ragazzino che a 7 8 anni già c'ha un uso della ragione perché la chiesa ha fissato come età convenzionale per l'uso della ragione convenzionale perché potrebbe anche essere anticipato in certi casi o in casi magari di qualche piccola difficoltà ritardato comunque convenzionalmente l'uso della ragione è fissato intorno ai 7 anni quindi il momento in cui tu ti rendi conto delle cose che fai e puoi capire se stai facendo qualche marachello o qualcosa che non va vuol dire che la condizione lo stato dell'anima di francesco che poi sarebbe diventato un eroe della 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 fede sappiamo tutte le penitenze che faceva le ore che passava davanti al santissimo sacramento sicuro molto probabilmente con la morte che ha fatto anche è andato in paradiso per direttissima lui sì però per lo stato in cui si trovava in quel momento molti rosari e non credo che possa aver fatto qualche peccato mortale un ragazzino di 7 8 anni ma molti rosari sì però ora se un ragazzino di 7 8 anni molti rosari per andare in paradiso in quel contesto capite no io non voglio come dire non ho nessuna intenzione non mi piace cioè creare preoccupazioni tensioni agitazioni agitazioni o sofferenze non 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 sono non è una cosa divertente però è compito di un pastore che cioè degno di questo nome cioè far riflettere le anime che il signore in qualche modo gli affida e non creare false illusioni false fondate sul sul nulla perché davanti a dio non c'entra niente che sia macchiato anche della più minima macchia di peccato addirittura anche imperfezione non purificata non ci entra questo dobbiamo mettere bene in testa specialmente oggi andiamo a vedere un altro documento sempre di giovanni ventiduesimo questa volta la bolla ne super his dancing er 991 che dove si leggono queste testuali parole noi confessiamo dunque e crediamo che le anime purificate separate dai corpi sono in cielo nel regno dei cieli in paradiso raccolte insieme con cristo nella comunione degli angeli e che conforme la condizione comune vedono chiaramente dio e la divina essenza faccia a faccia per quanto lo permette lo stato e la condizione di anima separata se poi altre cose o in altro modo a proposito di questa maniera in una qualsiasi circostanza da noi fossero state dette noi quelle cose le abbiamo dette e affermiamo di averle dette e vogliamo che siano state dette citando e discorrendo secondo il modo di sentire della chiesa cattolica inoltre se noi in ordine a ciò che riguarda la fede cattolica la sacra scrittura e i buoni costumi predicando discorrendo formulando una dottrina insegnando o in qualsiasi altro modo abbiamo detto altre cose queste se sono conformi alla fede cattolica al modo di sentire della chiesa alla sacra scrittura e ai buoni costumi non le approviamo in caso contrario invece noi quelle cose vogliamo ritenerle come non dette e non le approviamo per nulla in quanto fossero dissonanti dalla fede cattolica dal modo di sentire della chiesa dalla sacra scrittura o dai buoni costumi o di uno qualsiasi di questi se questo fosse noi le riproviamo e ugualmente sottomettiamo al modo di sentire della chiesa e dei nostri successori tutte le nostre cose dette o scritte relative a qualsiasi argomento in ogni sua parte, in qualunque luogo e in qualunque condizione che abbiamo o abbiamo avuto finora ora si parla inserito della condizione delle anime separati dai corpi che sono in cielo nel Regno del Cielo in Pardisi si parla qui in questo documento di per la prima volta in termini abbastanza chiari di visione beatifica che cos'è la visione beatifica per quanto possiamo descriverla vedono chiaramente Dio e la Divina Essenza faccia a faccia la visione beatifica è questa contemplare Dio faccia a faccia vederlo vedere la Santissima Trinità e essere evidentemente riempiti seduta stante lo vedremo poi quello che ci dirà San Tommaso il momento stesso in cui tale visione comincia della perfettissima indefettibile insuperabile come dire beatitudine terzo documento è la costituzione di Benedetto XII di poco posteriore perché Benedetto XII è il successore di Giovanni XXII che era Benedetto del 29 gennaio del 1336 anche qui la lettura è abbastanza estesa è tutta dedicata alla visione beatifica la prima parte Densinger 1000-1001 con questa costituzione che avrà di cuore in perpetuo noi in forza dell'autorità apostolica definiamo che secondo la generale disposizione di Dio le anime di tutti i santi che hanno lasciato questo mondo prima della passione di nostro Signore Gesù Cristo e quelle dei santi apostoli dei martiri dei confessori delle vergine degli altri fedeli che sono morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo e nei quali non ci fu nulla da purificare quando morirono e non ci sarà nemmeno in futuro quando moriranno oppure qualora ci sia stato o ci sarà nessi qualcosa da purificare una volta che siano stati purificati dopo la loro morte e le anime dei fanciulli che sono rinati mediante lo stesso battesimo di Cristo e di quelli che devono essere battezzati una volta che sono stati battezzati e che sono deceduti prima dell'uso del libero arbitrio prima dell'uso del libero arbitrio o dell'uso della ragione come dicevo prima subito dopo la loro morte e la purificazione di cui si è detto in coloro che erano bisognosi di tale purificazione anche prima della riassunzione dei loro corpi del giudizio universale dopo l'ascensione del Salvatore nostro Signore Gesù Cristo in cielo furono sono e saranno in cielo nel Regno dei Cieli e nel Celeste Paradiso con Cristo associate alla compagnia degli Angeli e dei Santi e che queste attenzione a questo passaggio dopo la passione e la morte di nostro Signore Gesù Cristo hanno visto e vedono l'essenza divina con una visione intuitiva e più ancora faccia a faccia senza che ci sia in ragione di oggetto visto la mediazione di nessuna creatura rivelandosi invece a loro l'essenza divina in modo immediato scoperto chiaro e palese e che coloro che così vedono godono pienamente della stessa essenza divina e che così in forza di tale visione e godimento le anime di coloro che sono ormai morti sono veramente beate e hanno la vita e la pace eterna e anche quelle di coloro che in seguito moriranno vedranno la stessa essenza divina e della stessa godranno prima del giudizio universale e che una tale visione dell'essenza divina e il suo godimento fanno cessare in esse gli atti della fede e della speranza in quanto la fede e la speranza sono peculiari virtù e locali e dopo che una tale visione intuitiva e faccia a faccia e un tale godimento ha avuto o avrà inizio nelle stesse la stessa visione o godimento senza alcuna interruzione o venire meno della visione o godimento di cui ci è detto permangono ininterrotti e continueranno fino al giudizio finale e da questo per tutta l'eternità ecco il massimo che si possa dire come dire da un punto di vista teologico dogmatico lo troviamo in queste affermazioni stupende bellissime molto chiare per cui io adesso le commento ma un ascoltatore attento ha già colto io non faccio altro che sottolineare allora chi ci va in paradiso le anime dei santi che hanno lasciato questo mondo prima della passione di nostro signore Gesù Cristo quindi tutti i canali dei santi dell'antico testamento e quelli dei santi cominciamo gli apostoli i martiri i confessori della fede attenzione i confessori quando sentiamo parlare di confessori questo è meglio dirlo non sono i confessori cioè quelli che ascoltano il sacramento della confessione ma sono quelli che confessano il nome del signore testimoni di lui il titolo di confessori ce l'hanno i santi nella tradizione della chiesa i santi non martiri quando uno non è martire maschio è un confessore quando una donna viene canonizzata ed è donna è vergine se è rimasta vergine oppure è una santa vedova se è rimasta vedova oppure è semplicemente una santa se è vissuta nel matrimonio quindi questo per familiarizzarsi un pochettino con i nomi un po' tecnici che sono usati nella chiesa quindi dei martiri dei confessori delle vergini e degli altri fedeli che sono morti dopo aver ricevuto il santo battesimo di Cristo e nei quali non ci fu nulla da purificare quando morirono vedete se non c'è nulla da purificare quando morirono e non ci sarà nemmeno in futuro quando moriranno quindi quelli che ancora devono morire oppure qualora ci sia stato ci sarebbe sì qualcosa da purificare una volta che siano stati purificati dopo la loro morte è possibile arrivare alla morte senza avere niente da purificare certo dipende da quanto volontariamente ci siamo purificati in questa vita e questo è proprio a mio avviso delle persone sagge intelligenti l'ho già detto tante volte pensarci a questa cosa il mio compito è sollecitare la riflessione no poi quali penitenze vuoi fare se vuoi farle quante farne quali fare come farle che cosa pregaci un po' su vedi un po' eventualmente chiedi qualche prudente consiglio confrontati col confessore se ce l'hai un confessore stabile col padre spirituale se ce l'hai o se no con qualche sacerdote sagge prudente che conosci ecco perché però ripeto a mio avviso ho già detto ma lo ripeto lo ripeto lo ripeto perché oggi è meglio ripeterlo perché a quanto pare di queste cose non è che se ne parli poi così tanto in giro però io dico attenzione cioè noi ci preoccupiamo della pensione quindi di quello che faremo dice che farò poi quando non ci abbiamo più ho finito di lavorare al termine della vita terrena carità non è che uno non debba preoccuparsi della pensione quindi sto dicendo questo qui ma la vita terrena finisce e poi comincia la vita eterna ma anche il purgatorio finisce sì il purgatorio finisce ma il purgatorio come abbiamo già visto non è una saletta d'aspetto dice vabbè cerchiamo un caffè e aspettiamo di essere ammessi al paradiso sai dobbiamo fare un po' di un po' di un po' di fila un po' di attesa non è così semplice quindi a mio avviso è saggio pensarci prima poi per carità ognuno sceglie cosa fare però dobbiamo essere consapevoli amici che io credo che è importante per un sacerdote responsabilizzare le persone fargli rendere conto che tu ti stai scrivendo la tua sorte terrena e oltraterrena poi non piange il latte versato quando poi diventa tardi dobbiamo pensarci prima ancora le anime dei manciulli battezzati qui specifica prima dell'uso del libero arbitrio e ancora specifica che coloro che vedono Dio lo possono fare dopo l'ascensione del salvatore nostro signor risurrito in cielo prima della passione di nostro signore questo morte risurrezione ascensione ricordiamolo bene non c'era essere umano nessuno che avesse avuto la visione beatifica nessuno ma nemmeno Mosè ma nemmeno Abramo ma nemmeno Adam e Deva ovviamente nemmeno Isacco nemmeno Giacobbe nemmeno Isaia Isaia è morto segato vivo ma com'è San Giovanni Battista ha avuto una morte eroica tu puoi fare qualunque cosa questo ci fa comprendere anche l'importanza della redenzione San Paolo dice se dessi il mio corpo per essere bruciato e non ho la carità non mi serve a niente e la carità con la C maiuscola è un corollario come direste viaggia insieme perdonatemi il termine alla grazia santificante ma la grazia santificante prima in senso stretto prima della passione morte e risurrezione di Gesù non c'era infatti non c'era ancora lo spirito si legge nel Vangelo di Giovanni perché Gesù non era stato ancora glorificato questo deve farci come dire venire nel cuore ma una gratitudine un amore e uno spirito di adorazione assoluti nei confronti del nostro Salvatore noi dobbiamo stare a ringraziare veramente giorno e notte notte e giorno perché se non avesse fatto quello che ha fatto per noi noi saremmo tutti perduti tu per fare tutte le penitenze che te pare puoi essere San Giovanni Battista re di vivo puoi essere segato vivo per amore di Dio in paradiso non ci saresti andato e questo si fa anche capire la serietà di quello che è stato il peccato originale quindi dopo la morte dopo la passione e morte del nostro Signore hanno visto e vedono l'essenza divina ecco la definizione con una visione intuitiva faccia faccia senza che ci sia in ragione di oggetto visto la mediazione di nessuna creatura non c'è più rivelandosi a loro l'essenza divina in modo immediato scoperto chiaro e palese immediato quindi senza mediazioni scoperto senza veli chiaro e palese evidente cosa produce questa visione beatifica? godono pienamente della stessa essenza divina e in forza di tale visione e godimento sono veramente beate la beatitudine cioè la pienezza della felicità e hanno la vita e la pace eterna quando si hanno quando si ha la visione beatifica cessano chiaramente gli atti della fede e della speranza perché non c'è bisogno di credere perché ce l'hai davanti agli occhi e non c'è bisogno di sperare perché hai raggiunto l'oggetto della speranza la meta cosa rimane come dice San Paolo rimane la carità che lì non soltanto rimane ma è perfettamente vissuta e compiuta e questo godimento continuerà in interrotto in interrotto fino a giudizio universale e dopo di esso per tutta eternità il 1200 abbiamo già Densinger 1200 l'abbiamo già letto a proposito dell'inferno perché poi c'è il rovescio della medaglia sull'inferno e su giudizio universale avanti il concilio di Firenze Densinger 1305 anche questo come quello di Léon dedicato al tentativo di riconciliare la chiesa latina cattolica con il mondo ortodosso greco dopo aver parlato del purgatorio e dei suffragi abbiamo visto questo quando abbiamo appunto affrontato il tema del purgatorio il 1305 del Densinger dice quanto alle anime di coloro che dopo il battesimo non si sono macchiate di nessuna colpa e anche riguardo a quelli che dopo aver commesso il peccato sono state purificate o in questa vita o dopo la loro morte nel modo sopradescritto esse vengono subito accolte in cielo e vedono chiaramente Dio uno e trino come Egli è attenzione aggiunta fondamentale ma alcune in modo più perfetto di altre a seconda della diversità dei meriti sicuti est promeditorum tamen diversitate alium alio perfectius in latino a qui viene introdotto rispetto a quello che già sappiamo viene specificato che si vede l'essenza divina cioè Dio uno e trino finalmente vedremo la santissima trinità l'oceano dei misteri ineffabile incomprensibile certamente in questo mondo ma attenzione alcune in modo più perfetto di altre a seconda della diversità dei meriti ora qui subentra un altro aspetto che anche quello dobbiamo pensarci amici cari dice per andare in paradiso basta osservare dieci comandamenti sì la risposta è sì se vuoi entrare nella vita osserva i comandamenti stare lontano dal peccato mortale sì e se fai i peccati veniali vai all'inferno no ti fai un sacco di purgatorio sì e non solo però non è dici vabbè faccio il purgatorio poi per una volta è arrivato in paradiso va bene e no sì va bene ma nel paradiso ci sono dei differenti si chiamano tecnicamente gradi di gloria che sono proporzionati ai meriti cioè sia quella che si chiama la gloria essenziale cioè la chiarezza diciamo così della visione beatifica in modo più perfetto sia la gloria accidentale che è la beatitudine che deriva non dalla visione intuitiva della Santissima Trinità ma da tutti quegli altri godimenti accessori dipendenti da realtà naturali quindi non direttamente divine che il Signore concede beati sono proporzionati in ragione dei meriti più opere buone facciamo più opere sante facciamo più andremo in alto in paradiso detto proprio in termini semplici e attenzione più in alto sta in paradiso e più godi anche questo siccome voi capite cioè la vita eterna si chiama vita eterna perché abbiamo 70 anni 80 90 facciamo 100 ma fossero pure 200 o come i patriarchi prediluviani che campavano fino a mille anni secondo il libro della Genesi no? fossero pure mille anni ma capiamo cosa sono mille anni in confronto all'eternità cioè all'infinito noi fino a quando stiamo qui io adesso sto parlando non so che tipo di risonanze interiori producono queste mie parole ci sembrano delle cose lontane ma adesso ci sembrano delle cose lontane però la nostra intelligenza è in grado insomma di afferrarle queste cose no? facciamola qualche opera buona in più e qualche peccato in meno o no? conviene no? anche qui facciamo gli esempi umani gli esseri umani se hanno qualche diletto umano come dire cercano di organizzarsi per poterlo raggiungere chi gli piace fare le vacanze gli piace il mare gli piace la montagna gli piace la neve gli piacciono gli sci che ne so gli piacciono i viaggi che fa? deve trovare deve lavorare perché deve accumulare deve accaparrarsi un pochetto dei soldi perché da vacanza costa ok? accaparrarsi i soldi costa lavoro sacrificio fatica solo che che cosa succede? che se io trovo i soldi per andare in vacanza le vacanze sono sempre tanto belle ma già appena comincia la vacanza cioè uno perché non se lo andrà per storto però appena arrivi appena raggiungi il luogo di vacanza comincia il conto alla rovescia per quando la vacanza è finita e per quanto possa essere bella la vacanza uno possa fare che 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 il tempo passi più lentamente possibile la vacanza finirà e magari ti è costato un botto dei soldi ma quello che ci aspetta dall'altra parte una volta che comincia non finisce più è solo che utilizzando questa metafora il livello di bellezza della vacanza allora facciamo cioè se uno va l'estate perdonatemi gli esempi un pochino così però che dobbiamo fare cioè se io vado al mare d'estate a Ostia d'accordo carità con tutto rispetto per Ostia oppure vado alle Seychelles è la stessa cosa non credo se vado a Scia a Forche Canapine mi ricordo questo qui vicino alla Tadammatrice oppure vado in Val Gardena non è la stessa cosa non è la stessa cosa è la verità non è la stessa cosa provare per credere se io vado a farmi un giro al mare su un 40 cavalli d'accordo su un motoscafetto o così oppure c'hanno yacht come quelli che c'hanno i ricconi sfondati non so se un 40 metri è la stessa cosa non è la stessa cosa se io vado a Nammel in giro con la 500 o l'850 dei fantozzi che si accende con la levetta oppure con la Ferrari è la stessa cosa non è la stessa cosa ecco facciamo un processo di traslazione questi sono esempi relativi a questa piccola vita terrena giusto se mi vedo un film in 4k oppure mi vedo una pellicola muta dei super 8 degli anni 60 è la stessa cosa non credo ma guardate che cioè queste cose si possono tranquillamente in ciò che rappresentano traslare alla beatitudine dice col super 8 vedi qualcosa e si certo che vedi qualcosa meglio il super 8 che niente se puoi se puoi ma vogliamo paragonare il super 8 con 4k diciamo vabbè ma vado a farmi una sciata se vado a fuori canapini e qualche pista c'è pure là che problema c'è certo che c'è pure là ma non è come non c'è non ha la qualità di altre di altre zone vabbè se vado a far un bagno cioè incontro che vai in spiaggia un pochino così con l'acqua un pochino così incontro che vai in spiagge da sogno no? sempre spiaggia è sempre neve è sempre macchina è sempre film è quindi questo è il minimo comune denominatore sempre paradiso è sempre visione beatifica è sempre gloria accidentale c'è ma l'intensità la perfezione è diversa un film in 4k a momento attuale io sa che diavolarie si inventeranno per il futuro se ne inventano ancora non so che altro si possono inventare oltre a questo è come dire un processo che è cominciato dai super 8 è arrivato al 4k si passa poi dal super 8 prima poi le telecamere che oltre al video che facevano sentire anche l'audio sempre con tutte queste formichine no? e poi meglio 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 poi le fotocamere digitali ricordate le macchinette insomma quelle con la videocassetta con il VHS incorporate poi quelle digitali che c'è una scheda di memoria poi è cominciato l'HD a 7.20 poi a 1080 poi fu l'HD a 4.000 poi a 4k capite? c'è una differenza sta differenza ce la giochiamo noi amici miei ci abbiamo il corso della vita terrena terminato il corso della vita terrena quello che è rimane hanno raccontato si regge in tanti scritti dei santi che i santi hanno nessuna voglia di tornare sul pianeta terra ovviamente l'unico motivo per cui tornerei a fare un po' più di penitenza o fare qualche altra opera santa perché adesso capiscono benissimo perché lo vedono che quella penitenza in più o quell'opera santa in più gli avrebbe dato un grado di gloria in più che fermo restando che poi ce lo spiegherà Sant'Omaso che l'appagamento ce l'hanno tutte le anime beate perché non si può stare in paradiso senza essere perfettamente appagati però chiaramente c'è un appagamento perfetto perché dipende dalla misura del recipiente cioè se io ho un recipiente che contiene 5 litri e non ne contiene 500 se dentro di me ci metti 500 litri io sempre 5 ne posso contenere ma se la mia capacità è 5 litri che sono piena fino all'orlo sono piena fino all'orlo di quei 5 litri è chiaro che un grande santo ci avrà come capacità 500 litri lui può contenere tu no però vivi la pienezza della beatitudine perché tu c'hai quei 5 litri però sta però quello che c'ha 5 litri capisce che quello che c'ha 500 litri sta meglio di lui anche se questo non gli causa sofferenza scusate se mi sono un pochino dilungato su questi aspetti però lo faccio lo faccio un po' anche per me perché il tempo corre io tante volte ho raccontato ma io a volte sono un pochino commosso io penso soprattutto alle per esempio alle veglie di preghiera cioè una persona che un sabato sera mi avviso cioè io sono un sacerdote ho fatto delle scelte da tanto tempo quindi per me è un piacere stare dinanzi al Signore stare in chiesa stare a pregare un po' lo confesso sì a volte è un piccolo sacrificio sono un pochino stanco ma io ho investito su questo la mia vita magari per una persona che è un laico sabato sera potrebbe andarsi a come si dice a divertire se non ci va e sta una veglia di preghiera poi mi fanno tanta tenerezza addirittura no chi se le segue in streaming io ho cominciato a farle perché qualcuno mi diceva ma mettile mettile in giro perché qualcuno volesse unirsi dico ma come si fa una veglia di preghiera si dice ce devi stare ce devi no cioè è un po' è un po' è un po' limitante magari partecipare stando dietro uno schermo insomma un video però c'è un sacco di gente che lo fa e a mio avviso chi lo fa in questo modo c'è pure doppio merito perché non si gode nemmeno come dire la bellezza della location quindi la possibilità di stare in chiesa e di viverlo live diciamo così l'evento no la domanda è se io la sera ho passata a pregare oppure la passavo a divertirmi in maniera decita per carità non ho fatto niente di male a divertirmi in maniera lecita ma certamente è più meritorio fare un sacrificio e trascorrere del tempo in quel modo San Paolo dice nelle sue lettere io vi scrivo queste cose per aiutarvi non per mettervi un laccio cioè non voglio far sentire male perché una persona se il sabato sera vuole andarsi a mangiare una pizza vada cioè non si devono prendere queste cose come un incubo o viverle in maniera oppressiva ma semplicemente come stimolazioni come esortazioni come inviti ad accumulare cioè noi non accumuliamo tesori sulla terra e vi sconsiglio ovviamente ad accumularli quindi se il Signore ti ha donato un certo benessere guardate che la cosa veramente più triste a mio avviso è una delle cose più tristi lo dice pure il coeretto lo dice delle persone che stanno bene cioè se tu stai bene cerca di metterti davanti a Dio e non accumula quelle cose lì usali fa un po' di beneficenza fa un po' di opere buone e poi eventualmente usale anche per te cioè per per le cose necessarie per avere qualche cosa bella in spirito come dire rendendone grazie al Signore carità di Dio che stanno a fa' accumularsi noi accumuliamo come dice Gesù tesori in cielo non accumulate tesori sulla terra accumulatevi tesori in cielo io vorrei tanto spero che sia così ma vorrei tanto essere come dire non a mosca perché le mosche non si vedono ma in qualche modo partecipe della della conoscenza che il Signore ha dei cuori lo dico tanto per dire non è che ma per vedere ma quanti cristiani quanti battezzati ci pensano a queste cose accumula tesori in cielo io in tante predico ho detto di cos'è senti in attimo quanto c'hai in banca quanti soldi ti sono passati davanti quanti sono cioè guardate che noi in paradiso noi abbiamo il libretto di deposito abbiamo il conto corrente in paradiso ogni soldo che tu dai gratuitamente assolutamente in beneficenza come liberalità è quello tutto quanto hai messo nella banca del cielo non è che tu l'hai perso l'hai investito gli uomini fanno gli investimenti se hanno tanti soldi che fanno comprano le azioni comprano i bot comprano quello quello li devono investire così li fruttano se uno vuole fare questo faccia pure io suggerirei almeno una parte perché poi anche qui dipende dalle scelte personali c'è chi fa più e chi fa meno liberamente Dio non forza nessuno non costringe non forza accoglie tutto ma non forza nessuno mio spassionato consiglio ma una parte metti in paradiso perché quelli ti tornano per tutta l'eternità con interessi sapete no gli interessi voglio vedete quale banca della terra fa i tassi di interesse che fa quella del cielo Gesù ha detto il 100 per 1 100 per 1 qui e vita eterna dopo ha detto lui conoscete qualche banca che fa il 100 per 1 cioè che se io ci metto dentro 1000 euro tra un anno me ne da 100.000 euro se la conoscete fatemela sapere perché insomma un pezzino ce lo faccio pure io l'ultimo documento da da vedere poi vediamo un po' se si ci ci fermiamo perché poi San Tommaso ce lo godiamo bene la prossima volta si è l'accennato documento della congregazione della fede del 79 si chiama lettera su alcune questioni riguardanti l'escatologia recensiora me piscoporum sinodi cito soltanto due affermazioni il fatto che un documento del 79 della congregazione della fede dica certe cose così ci abituiamo anche a leggere un pochino i documenti del magistero che cosa ci fa capire significa che le cose che afferma erano contestate oggetto di dubbio o addirittura di contestazione e non a livello di un discorso da barba se no non si scomoda la pubblicazione ottima della fede ma a livello di teologia come dire ad alti livelli forse cattedre universitarie di qualche pontificio facoltà la prima affermazione è la chiesa afferma la sopravvivenza e la sussistenza dopo la morte di un elemento spirituale dotato di coscienza e volontà l'anima questa definizione non fa proprio impazzire comunque di modo tale che l'io umano sussiste pur mancando nel frattempo del completamento del corpo la chiesa in fedele adesione al nuovo testamento e alla tradizione crede alla beatitudine dei giusti i quali saranno un giorno con Cristo quindi l'esistenza dell'anima e adesso già immagino adesso non voglio qui parlare fare commistioni di catechesi no? le prospettive che apre per esempio il libro di Tenera Amata sulla quinta dimensione l'ho già spiegato tantissime volte che la quinta dimensione non contraddisce questa cosa qui semplicemente aggiunge un elemento che su cui l'attenzione di tutti non si era fermata ma guardate che il discorso sulla quinta dimensione per uno che conosce un minimo di filosofia e teologia è semplicemente ovvio semplicemente ovvio perché il tempo scorre in questa dimensione ma quando questa dimensione viene lasciata e si entra nell'eternità nell'eternità il passato il presente e il futuro non esistono tanto per farci un esempio tutti quanti capiscono se una persona ti guarda lo sai che quando morirai ti rivedrai tutta la passione di nostro Signore Gesù Cristo ma attenzione non è che si vede come su una stessa al cinema dicevo me vedo un film però a differenza della passione di Mel Gibson il film che mi vedo è proprio quello che è stato quindi è un docu film perché mi vedo proprio nostro Signore Gesù Cristo in persona non l'attore che lo interpreta vivere tutto quello che ha vissuto fruire e risorgere eccetera eccetera non è così perché ciò che è successo con la passione di nostro Signore in Dio è in atto adesso e non è in atto adesso come un qualche cosa che è rimasto come un film no quindi la nostra anima si separa dal cadavere certamente ma tutto quello che ha vissuto prima quando ancora era nel corpo rimane e quindi se rimane rimane come situazione che era sussistente quando ancora si era nel corpo e che quindi è ancora possibile vivere quindi questa cosa non contraddice il Magistero ma aggiunge la focalizzazione di un particolare a cui ci sarebbe già potuti arrivare perché ci si arriva se uno capisce bene che cos'è io sono colui che sono cioè io sono l'essere e che significa il fatto che Dio una volta che dà l'essere non lo toglie a nessuno eccetera eccetera pensiamo che il grado proprio di credibile questo argomento del del 79 proprio cioè si arriva addirittura sulla scorta dell'idea del positivismo sapete che è stata tutta l'altra la psicologia per esempio nel secolo scorso no? la Freud in poi che hanno cominciato a parlare dell'io vedete qui come per cercare un attimo di intercettare queste cose l'io umano sussiste pur mancando nel frattempo il completamento del corpo l'anima e la beatitudine dei giusti non è che c'è il nulla una volta che uno muore no no cioè la beatitudine o la dannazione e poi c'è quello stato intermedio che è il purgatorio che ne abbiamo visto riparlare questa sera che è però funzionale alla beatitudine allora dopo questa sera speriamo che ci sia venuto un pochino di voglia più ecco di cercare di purificarsi il più possibile dai peccati e di moltiplicare il più possibile l'opera esante perché purgatorio il meno possibile e beatitudine in cielo il più alto possibile queste a mio avviso sono cose sagge di cui a cui pensare e di cui occuparci fino a quando siamo in tempo cioè in questa adesso non domani non dopo domani ora giorno dopo giorno fino al giorno della nostra di partita da questo mondo ci vediamo se ti vuole la prossima puntata e che Dio vi benedica amici e la Madonna sempre vi protegga